La CNA di Pesururbino ha iniziato già dal mese di maggio a fare test sierologici sempre in collaborazione con la regione perché giustamente tutti i dati che emergono noi li diamo anche alla regione per verificare se le misure sanitarie messe in atto fino a questo momento hanno una giusta risultanza. Noi l'abbiamo fatto in migliaia di aziende, più che altro in migliaia di dipendenti delle nostre aziende e negli ultimi giorni stiamo facendo anche tantissimi test con i tamponi veloci, quelli che vengono chiamati antigenici perché riusciamo con il sierologico e i tamponi veloci a dare davvero un quadro importante della situazione nel mondo del lavoro per quello che riguarda la pandemia. Quindi sono molto contento di quello che la regione metterà in campo in questi mesi perché va sulla falsariga di quello che noi già stiamo facendo da tanto tempo. Per quella che è stata la vostra esperienza in questo esame approfondito all'interno delle imprese, qual è stata grossomodo la percentuale di dipendenti o personale risultato positivo? Nei test che come associazione abbiamo fatto tramite la nostra società Master Quality devo dire la verità meno del 5% di chi è stato testato è risultato asintomatico e positivo al Covid-19. Quindi buoni risultati vuol dire che il grande senso di responsabilità degli imprenditori nel seguire le misure sanitarie e le misure sanitarie stesse che vengono messe in campo sono a mio avviso adeguate.